Buongiorno a tutti, io sono sempre Victor Laslo88, per iniziare anche il video di oggi vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link che vi rimanda alla home page del sito di Pampling dove avete trovato un sacco di prodotti a tema nerd molto interessanti come le magliette con tante stampe molto carine che vengono costantemente aggiornate come quella che indosso questa è relativa alla casa di carta che come serie non mi piace ma esteticamente non si può dire nulla alle tute rosse e alle maschere di Salvador Dalì fanno la loro porca figura su una maglietta e poi ci sono le scarpe con tante fantasia che mi piacciono molto oppure gli zaini, le felpe, insomma un sacco di belle cose tra cui anche i calzini che sono carinissimi e di calze c'è sempre bisogno, lo sapete meglio di me, quindi se volete acquistare uno qualunque o più di questi prodotti se aggiungete all'acquisto un paio di calze a vostra scelta e usate in fase di acquisto il codice sconto VILASDLO non pagherete il paio di calze e se usate la promozione 4x40 che vi permette di avere 4 magliette al costo di 40 euro quindi 10 euro a maglietta non solo se aggiungete le calze usando il codice VILASDLO le avete in regalo ma non pagate nemmeno le spese di spedizione quindi magari può interessarvi, ora però bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi, sigla allora oggi voglio parlare di un progetto molto sperimentale legato a Star Wars una serie antologica che è stata rilasciata ieri in blocco su Disney Plus mi riferisco naturalmente a Star Wars Visions progetto di cui si parlava da un po' di tempo e che io stavo aspettando con una certa trepidazione perché si tratta di qualcosa di molto particolare che cos'è Star Wars Visions? questa prima stagione, anche se ancora non si sa se ce ne saranno altre è composta da nove cortometraggi slegati tra di loro prodotti sviluppati da diversi studi giapponesi quindi si tratta di un prodotto anime in tutto e per tutto e credo che questo sia il modo di Disney di approcciarsi a una tendenza che ormai sta imperversando i manga hanno iniziato a vendere sempre più, addirittura in Stati Uniti America stanno vendendo di più rispetto ai comics quindi rispetto ai fumetti sui supereroi di DC e Marvel e di altri casi editrici che è una cosa non particolarmente usuale e poi sono stati annunciati oltre 20 adattamenti di popolari manga e anime tra film e serie sapete che ad esempio a breve uscirà la serie live action di Cowboy Bebop su Netflix poi sempre Netflix produrrà Yu Yu Akusho, ovvero Yu Yu degli Spettri poi la serie su One Piece poi dovrà arrivare il film sull'attacco dei giganti il film su Akira ce ne sono veramente tantissimi questi sono solo alcuni di quelli che sono stati annunciati su Netflix già abbiamo potuto vedere Alice in Borderland mesi fa che è piaciuto molto anche al pubblico occidentale soprattutto al pubblico occidentale per cui forse Disney vuole provare ad aprirsi a questa tendenza a modo suo e com'è che fa Disney a sperimentare? utilizza i grandi brand di cui dispone vuole sperimentare? benissimo, facciamo delle serie diverse dal solito riguardanti l'MCU e quindi Diary of WandaVision che comunque era molto particolare The Falcon and the Soldier che voleva essere un'opera action che parlasse di razzismo Loki è l'opera che ti apre al multiverso What If è la prima opera animata dell'MCU insomma con cui l'hanno sperimentato abbastanza vogliono farlo anche con Star Wars e quindi ecco Star Wars Visions e io sinceramente sono rimasto davvero ma davvero colpito perché si tratta di un'opera profonda e soprattutto mi ha dato tutto quello che avrei voluto quindi io ne parlerò facendo un po' di spoiler come faccio sempre quando parlo di serie per cui vi consiglio di recuperare Star Wars Visions anche se siete scettici io lo so che Star Wars negli ultimi tempi ci ha deluso lo so che in tanti non sono contenti della gestione di Disney ma vi posso assicurare che questa serie si merita una possibilità si merita una possibilità perché è qualcosa di completamente diverso è qualcosa di slegato ai soliti voluti Star Wars non ci sono quasi per niente personaggi familiari tranne in un episodio sono comunque personaggi non protagonisti anche se iconici e compaiono così in una scena e sono tutte storie nuove sono tutte storie che esplorano pianeti di cui non abbiamo mai sentito parlare tranne in un'unica occasione io credo che se amate Star Wars dovreste dare una possibilità a Star Wars Visions e questo ve lo dico prima di iniziare con la mia disamina perché se non l'avete visto è meglio che non proseguire la visione del video perché ne parlerò in maniera molto specifica però se siete arrivati fino a questo punto e siete tra quelli che non hanno intenzione di guardare Star Wars Visions perché è una serie animata perché non gli piacciono gli anime perché ormai Star Wars per voi non ha più niente da dire sappiate che guardando la serie potreste cambiare idea su ciascuna di queste cose non vi piacciono gli anime? non importa dateli lo stesso una possibilità sono convinto che non rimarrete insoddisfatti quindi adesso inizierò a parlarne e inizio con il primo di questi nove corti sappiate che la durata è abbastanza appetibile perché comunque vanno dai 12 minuti fino a un massimo di 23-24 per cui ogni corto si guarda abbastanza in fretta magari non avete tempo in pausa pranzo di guardarvi l'intera stagione guardatevi uno o due corti in una mezz'oretta li liquidate e secondo me digerite anche meglio perché siete lì a pensare oddio ma che bello avete un attimo di tempo vi guardate un corto secondo me è una serie anche fruibile in questo modo è un po' come Love, Death and Robots per intenderci però con Star Wars come diciamo materia di origine e tra l'altro c'è un filo conduttore presente in quasi tutti gli episodi che è rappresentato dai cristalli Kyber che sono i cristalli che fanno funzionare le spade laser quindi questa cosa mi è piaciuta molto il fatto che sempre ci fosse un riferimento a cristalli Kyber in alcuni episodi sono anche l'elemento più importante quindi il primo episodio si chiama Ronin che è stato sviluppato, creato dallo studio Kamikaze Doga che uno può dire che studio è è noto principalmente per aver realizzato tutte le opening di ogni stagione dell'anime delle bizzarre avventure di Jojo e se guardate l'episodio vi rendete conto che effettivamente si vede pure ed è il mio episodio preferito in assoluto della stagione per il semplice fatto che io sono folle per Akira Kurosawa ed è un cortometraggio realizzato con uno stile quasi a sketch tutto in bianco e nero con solo alcuni elementi colorati e questo è bellissimo perché mi ha ricordato un po' l'esperimento usato da Frank Miller per il suo ciclo di Sin City il fatto che fosse tutto in bianco e nero ma con solo alcuni elementi in scena in cui rappresenta il colore ma con uno stile completamente diverso lo stile di Frank Miller è netto è un bianco e nero nettissimo non ci sono sfumature qui invece è tutto sfumato e hanno cercato di riprodurre il bianco e nero caratteristico bellissimo e poetico dei film del grande maestro Akira Kurosawa quindi non posso che essere contento di vedere un corto del genere peraltro ambientato in un villaggio che sembra nel periodo del Giappone feudale ma siamo nel mondo di Star Wars quindi ci sono gli alieni ci sono le armi con i laser ci sono i droidi quindi è il mondo di Star Wars ma in un contesto in stile Giappone feudale perché noi non conosciamo tutta la galassia è una galassia lontana lontana quindi c'è un pianeta in cui tutto sembra ricondurre al Giappone feudale va benissimo non ti fai domande non dici ma perché il Giappone feudale che cazzo ne sai ci sarà un pianeta un villaggio in cui le cose sono simili come ce le raccontano nelle storie riguardanti il Giappone feudale e quindi vediamo questo Ronin Ronin è un samurai rinnegato nella tradizione che gira con questo droide che è molto simile al 2D2 uno di quel tipo di droide e a un certo punto il villaggio viene attaccato da questi soldati imperiali questi bastardi che arrivano con questa tizia che ha per l'appunto questo ombrello il classico ombrellino tipico della tradizione giapponese che però ha come aste delle spade laser questa cosa è fantastica io ho adorato in Star Wars Visions il fatto che ci mostrino tante declinazioni diverse delle spade laser non sono sempre solo le solite classiche spade è molto bello perché la tizia è una Sith ovviamente e quando inizia a massacrare chi cerca di fermarla ovviamente arriva il Ronin e io l'avevo capito subito però il momento della rivelazione è fantastico lei dice ah abbiamo qua un Jedi lui tira fuori la spada che peraltro è una katana laser faccio notare questa cosa è bellissima ed è rossa quindi non è un Jedi ma è un Ronin nel senso più Star Wars del termine cioè un Sith che uccide gli altri Sith e che nella tasca interna della sua veste ha tutti i cristalli Kyber rossi delle spade che ha preso ora la cosa interessante è che questo Ronin fa esattamente quello che farebbe un Sith rinnegato cioè un Sith rinnegato non diventa un Jedi perché comunque voi direte sì ma lui combatte gli altri Sith è vero ma un Jedi non si metterebbe mai sulle tracce degli altri Sith per ucciderli un Jedi è cauto un Jedi non si lascia andare alla vendetta altrimenti diventerebbe un Sith non si lascia andare troppo alle emozioni perché sappiamo cosa succede quando ti lascia andare troppo alle emozioni Anakin Skywalker insegna quindi se un Sith a un certo punto non volesse più essere un Sith e ci ripensasse avrebbe l'intenzione di fermare gli altri Sith probabilmente e quindi cosa fa si mette sulle loro tracce per ucciderli un Jedi non lo farebbe ma un Sith sì quindi non è un Jedi rimane un Sith ma un Sith ribelle questa cosa mi piace un sacco infatti è un Ronin nel mondo di Star Wars un Sith ribelle diventerebbe esattamente quello che erano una volta i Ronin quindi questo guerriero solitario che viaggia col suo droide che ricorda tantissimo il protagonista di Yojimbo o se preferite la vendetta del samurai proprio di Akira Kurosawa e le animazioni sono straordinarie in questo episodio in particolare le animazioni ti fanno venire la pelle d'oca ho apprezzato tantissimo come hanno tratteggiato dei personaggi che si vedono a malapena compresa la guerriera Sith che a un certo punto viene uccisa di fronte a questa statua sacra davanti al quale il Ronin si mette a pregare brevemente e quindi c'è un riferimento a un culto che non è il culto della forza quindi anche questa è una cosa interessante e vedi anche la vita al villaggio insomma è bello perché ti cala in un'atmosfera diversa da quella a cui sei abituato pensando a Star Wars ma ti fa anche pensare beh è l'esplorazione di qualcosa in questa galassia che noi non conoscevamo e questo l'ho apprezzato da morire è un episodio fantastico con una colonna sonora pazzesca credo che a livello di colori a livello di animazioni a livello tecnico in generale siamo veramente a un apice si vede che si sono divertiti si vede che hanno voluto sperimentare è bello poter giocare con la tradizione della propria cultura ma sempre rimanendo nell'ambito di Star Wars e questo ci fa capire quanto Star Wars sia un'opera straordinaria che Lucas ha creato qualcosa di monumentale perché se vogliamo espandere questo universo nel senso più ampio possibile si può fare veramente di tutto e questo corto Ronin che dura circa 12 minuti lo dimostra alla grande io ero incantato mentre lo guardavo quindi veramente ma veramente il mio preferito non che gli altri non siano belli ma qui abbiamo raggiunto dei livelli altissimi ma veramente veramente altissimi poi sono riusciti comunque a metterci dentro il droide simpatico senza che questo spezzasse la tensione che si era venuta a creare siccome Yojimbo la vendetta del samurai è un film che io adoro perché poi è quello a cui Sergio Leone ha tinto piena mani per realizzare il suo per un pugno di dollari è stato bello vederne una sorta di rivisitazione perché non è propriamente così la trama ma l'atmosfera il tizio del villaggio che accoglie il protagonista che arriva dal nulla lo straniero misterioso è molto simile non solo a quel film ma tanti film di Kurosawa quindi davvero davvero un'opera straordinaria il secondo episodio invece qua una lista perché io con i titoli sapete non è che sono proprio proprio bravissimo è Tatooine Rhapsody dello studio Colorido che è uno studio nato appena sei anni fa e questa è una delle sue realizzazioni più importanti l'ho trovato molto carino lo stile è completamente diverso molto più anime ma in realtà anche per essere un corto anime ha uno stile molto peculiare perché è un misto tra il classico stile visivo grafico che trovate in un anime e lo stile occidentale è molto occidentalizzato però comunque si percepisce che è un anime e ci mostra qualcosa di inaspettato cioè un ragazzo Jay che fa parte di una band una rock band e vi dite come una rock band scusami le rock band ma che cazzo dici in Star Wars ragazzi quante volte abbiamo visto gruppi musicali nei film di Star Wars penso alla celeberrima cantina band penso all'esibizione canora che vediamo in solo ma non solo sicuramente il gioco di parole ci sono tanti momenti in Star Wars in cui vediamo gruppi musicali quindi perché non una rock band quindi questo ragazzo si sta esibendo con il suo gruppo peraltro i membri sono simpaticissimi c'è il droide c'è il tizio con un corpo che ospita tre persone tre esseri diversi e poi c'è un hat questo hat che si chiama Guy che viene portato cioè viene rapito da Boba Fett quindi io non non mi aspettavo di vedere Boba Fett onestamente ed è l'unico episodio in cui vediamo personaggi familiari per quanto riguarda Star Wars perché in tutti gli altri non vediamo personaggi noti giusto in questo viene rapito perché ha un debito con Jabba Jabba vuole che lui ci unisca al consiglio ma lui non vuole e allora Jay ricorda di quando era un Jedi era un giovane padawan che era scappato per motivi che non sappiamo e che è stato accolto da Guy che l'ha inserito nella sua band e Guy e gli altri sono diventati la sua famiglia quindi cosa fanno vanno da Jabba Jabba sta per uccidere Guy con un'esecuzione pubblica davanti a una folla il solito stadio che vediamo anche nei film della prima trilogia e gli escono a strappare l'accordo di eseguire la punizione mortale dopo aver permesso a Guy di suonare una canzone con la sua band loro suonano di fronte a questo pubblico invisibilio e Jay con una certa faccia tosta dice a Jabba perché invece di uccidere Guy non vedi che siamo una grande band che tutti ci amano che diventeremo famosi e diventi il nostro sponsor e Jabba alla fine concede la grazia a Guy e la rock band diventerà probabilmente popolare bellissimo che c'è anche Boba Fett che si lascia incantare dal ritmo un episodio sicuramente più per ragazzi con un target più basso ma veramente bello ecco capite cosa intendo io quando mi lamento di una puntata come quella di What If di ieri in cui c'erano battute assurde e quant'altro non è che se devi fare un prodotto per bambini devi per forza fare una minchiata puoi anche fare una cosa come questa la rock star che cerca di convincere Jabba The Hat a graziare l'amico che gli ha permesso di sopravvivere secondo me è perfetto per un pubblico di bambini e ragazzi ma anche un adulto ci ride sopra io ci ho riso un episodio leggero sicuramente molto più leggero rispetto a quello presente passi dal Ronin che ammazza la Sith con la katana laser rinnegato che va in giro a uccidere gli altri Sith alla rock band che cerca di convincere Jabba The Hat a non uccidere uno del loro membre scusate ma è anche una varie è anche la dimostrazione di una varietà incredibile a mio modesto parere che mi ha veramente soddisfatto bene le animazioni carina la conna sonora peraltro è una puntata in cui si parla di musica c'è una rock band quindi la canzone che suonano è anche simpatica con un testo accattivante un testo anche ispirante per un ragazzino secondo me quindi io sinceramente sono rimasto veramente contento ho detto wow due episodi due cose completamente diverse sia nello stile che nell'animazione che nella narrazione ma è fantastico cioè già da questi primi due episodi si vede l'incredibile varietà e il grande potenziale di Star Wars Visions e ho pensato andiamo avanti magari i prossimi non mi piaceranno e si arriva al terzo che è uno dei due corti dello studio Trigger allora qua devo fare una premessa lo studio Trigger non è per tutti sono famosi ad esempio per Kill la Kill ma non solo anche per Promare hanno realizzato tante opere lo studio Trigger non è esattamente lo studio degli ultimi arrivati peraltro non so se l'avete giocato a me è piaciuto da morire c'è un videogioco che è un JRPG molto particolare che si chiama Indivisible che è stato realizzato da un punto di vista grafico ed animazione e quant'altro proprio dallo studio Trigger lo studio Trigger è esagerato solitamente mette in scena delle opere che hanno tutti quegli stile emitipici degli anime e dei manga quindi questo terzo episodio che si intitola i gemelli non è sicuramente qualcosa che tutti potrebbero digerire vediamo questi due gemelli gemelli nati al lato oscuro non si sa quando non si sa in che parte della galassia boh che stanno ultimando un'arma la sorella è convinta che lei grazie al lato oscuro potrà riportare pace nella galassia mentre invece il fratello ha avuto una visione in cui la sorella moriva usando questo cristallo Kyber perché lei ha un'armatura simile a quella di Vader che però può essere utilizzata con i cristalli Kyber un alloggiamento che ti permette di sfruttare il potere del Kyber quindi il fratello non è d'accordo ruba questo generatore che in realtà contiene il cristallo Kyber che si spezza perché loro due combattono quindi in maniera esagerata lanciando i fulmini ciascuno di un colore diverso in modo che ci siano i due raggi che si incontrano contro il cristallo che si spezza lei prende il pezzo del cristallo se lo mette nell'armatura e inizia ad avere le fruste laser cioè è una tamarrata allucinante ma è quello che mi aspetto allo studio trigger che non fa solo cose come questa ma se da un prodotto allo studio trigger vedo una cosa del genere dico vabbè niente di strano è proprio tutto lo stereotipo tutti gli stereotipi possibili e immaginabili che si sanno sugli anime li trovate in questo cortometraggio che può piacere come non piacere è molto esagerato io l'ho trovato simpatico ma capirei se in tanti dicessero no quello proprio no perché deve proprio piacerti il contesto anime devi proprio essere appassionato per poterlo apprezzare appieno siccome Star Wars Visions verrà vista da tanti casual che magari non si sono mai realmente approcciati agli anime vi avviso che potreste trovarlo strano anche lo stile è proprio davvero anche qui molto stereotipato appena lo vedi dici mamma questo è proprio la quintessenza del cartone animato giapponese quello che direbbe una persona che non sa neanche che si chiamano anime quindi è carino mi piace anche il fatto che siano questi due gemelli del lato oscuro chi sono perché alla fine è stato anche detto che Star Wars Visions è canonico quindi la realtà è che ogni corto è ambientato in un'epoca diversa che noi spesso non sappiamo neanche quale sia quindi per quello che ne sappiamo avviene molto tempo dopo la fine della saga principale quando il lato oscuro è ritornato noi non lo sappiamo quando questo avviene ed è bellissimo che questi due gemelli che sono legati da un destino indissolubile alla fine lui per salvare la sorella deve colpirla con la sua spada che è un'altra spada ancora una spada completamente diversa che non è la solita spada laser ma è sempre la spada laser e praticamente riesce a liberare la armatura ma per farlo deve usare l'iperguida e quindi finisce in un pianeta sperduto e dice al suo droide la troveremo l'era che ci aspetta perché d'altronde siamo gemelli quindi molto carino come corto anime mi rendo conto che non sia il più profondo non sia il più bello però secondo me rappresenta ancora una volta la grande varietà della serie abbiamo visto Ronin poi Tatooine Rhapsody e poi questo che è una cosa ancora diversa rispetto ai precedenti e a mio parere è molto carino e godibile si parla dell'amore tra fratello e sorella si parla di predestinazione in Star Wars si è parlato spesso di predestinazione è interessante vedere questi gemelli nati dal lato scuro che per l'appunto sono un po' nati come come è stato creato in teoria Anakin quindi sono degli anti prescelti cioè invece di essere nati dalla forza sono nati dal lato scuro della forza quindi è come se fossero due prescelti ma malvagi in realtà vediamo che malvagi non sono perché uno dei due ha abbracciato il lato chiaro all'improvviso è molto carina come storia belli colori belle le animazioni allo studio trigger non puoi dire un cazzo a livello tecnico puoi trovare discutibili a volte le storie che mettono in scena il modo in cui le mettono in scena la narrazione a me piace Kill la Kill per me è un anime davvero carino Promare non mi è dispiaciuto affatto quello era proprio un film quindi secondo me va contestualizzato molto mi rendo conto che possa essere difficile ma va molto contestualizzato e a me personalmente è piaciuto un sacco poi si arriva al quarto episodio che è l'episodio intitolato La sposa del villaggio che è dello studio Kinema Citrus anche loro comunque sono abbastanza veterani nell'ambito e questo è il corto che più mi ha colpito da un punto di vista delle immagini ma anche spiritualmente parlando è un corto dove vediamo questa Jedi dal passato difficile che non ci viene raccontato che incontra quest'uomo che non è il suo maestro ma è un amico del suo maestro su questo pianeta l'hai sconosciuto che era il pianeta del maestro e vede questi due giovani che stanno andando su questa altura perché devono celebrare il proprio matrimonio e è bellissimo perché loro arrivano davanti a questa statua e liberano la magina una forza misteriosa che poi non è altro che la forza è un altro nome che viene dato la forza in quel pianeta non si parla di forza ma di magina e si ricreano sotto forma di fantasmi del passato i ricordi del pianeta di tutte le persone che l'hanno calpestato quindi c'è questo rituale bellissimo che mi ha dato un senso di spiritualità incredibile e mi ha fatto pensare sto veramente guardando un'opera maestosa è veramente realizzato bene questo Star Wars Visions hanno chiesto a diversi studi ognuno con un'idea diversa di ciò che è Star Wars e si vede proprio la passione ed è bellissimo perché la sera viene celebrato il matrimonio con un banchetto a cui sono invitati tutti compresi i viaggiatori come la Jedi e l'uomo che si accompagna a lei e si viene a sapere che quella zona è controllata da dei malintenzionati dai dei predoni che hanno riprogrammato dei droidi quelli separatisti quelli della trilogia prequel per intenderci quelli di episodio 1 quelli con la testolina allungata che sono stati riprogrammati e quindi loro spadroneggiano e si sono messi d'accordo per portare via la ragazza che è la figlia del capovillaggio la sorella della ragazza vorrebbe combattere ma lei dice no perché spargeresti solo sangue quindi c'è tutto questo momento in cui la Jedi rivede se stessa in quella ragazza ripensa al suo passato doloroso ripensa alla situazione in cui si trova perché capiamo che in un momento di crisi spirituale per questo l'episodio è molto spirituale perché lei è come se avessi smarrito la via non te lo dice chiaramente ma te lo fa capire e quando arrivano i gangster chiamiamoli così la ragazza viene presa ma prendono anche la sorella lei dice la tua sorella stava cercando di farci un attentato con questa bomba quindi la ucciderò spara ma il raggio laser viene fermato dalla forza della Jedi la quale sconfigge tutti insieme anche all'uomo che si accompagna lei liberando il villaggio e ritrovando così se stesse lo scopo per cui ha scelto di abbracciare il lato chiaro della forza quindi anche questo un episodio molto bello un episodio che ti mostra una cultura di un pianeta mai visto e ti fa capire che nell'universo di Star Wars c'è di tutto ad esempio questa cosa della magia interessante perché è un modo di emanare la forza diverso da quello a cui siamo abituati e questa cosa mi piace un sacco tu sei abituato a vedere le declinazioni della forza in un solo modo qua invece te lo fanno in un modo completamente differente tra l'altro c'è anche un'altra cosa da dire queste cose vecchio prima dell'acquisizione della Lucasfilm da parte di Disney lei aveva già fatte non è una cosa nuova ma non era mai stato fatto in questo modo in maniera audiovisiva nei libri nei fumetti di cose del genere ne abbiamo incontrate di Zeff c'era anche una linea di libri una collana di libri che veniva prodotta quando io ero bambino che era apposta per i bambini proprio dell'universo espanso poi l'universo espanso pre acquisizione Disney è stato decanonizzato è diventato Legends cioè le storie ci sono esistono ma non sono inserite nel canone principale e poi però hanno iniziato ogni tanto a canonizzare qualcosa che piaceva praticamente al pubblico nel vecchio canone è pieno di cose veramente spettacolari niente da dire quindi anche questo episodio mi è piaciuto bellissime le animazioni che per altri colori colori molto accesi molto forti diverso rispetto ai corti precedenti anche questo l'ho trovato comunque molto bello più lento rispetto agli altri perché ti racconta una storia differente con meno azione che è concentrata sul finale e tutto un discorso spirituale sui ricordi sul retaggio culturale del proprio popolo che è veramente bellissimo e poi vediamo delle cose interessanti tipo il tizio che si accompagna alla ragazza che ha questo elmo che è agganciato a un braccio meccanico lui se lo toglie ma lo può portare lo stesso in giro vediamo la cultura gli usi i costumi di questo matrimonio lo sposalizio come diceva mia nonna di questi due giovani ragazzi che si amano molto e che accettano senza affiatare il loro destino pur sapendo che è un destino terribile e poi vengono graziati dall'intervento di questa Jedi che anche lei ha una spada che è una spada diversa rispetto a quella a cui siamo abituati sono tutte o sciabole o catane questa cosa mi piace tantissimo l'idea che esistano tanti tipi di spade laser e che ci siano tanti tipi diversi di concepire la forza e gli Jedi quindi questa cosa l'ho apprezzata e si arriva poi al quinto episodio che è il Nonno Jedi di Production IG il Nonno Jedi è un corto molto molto interessante perché c'è la suspense c'è c'è il colpo di scena c'è il dramma sostanzialmente questi Jedi vengono invitati da questo Marchese Giuro che dice di voler ricostituire l'ordine Jedi probabilmente siamo molto avanti nel tempo rispetto a quello alla storia che conosciamo oppure molto indietro chi lo sa non c'è una collocazione ben precisa e questo Barone Giuro Giuro dice di aver trovato il modo di fabbricare delle spade laser le antiche armi perdute dei Jedi questi Jedi vanno lì e nel frattempo sono su questa fortezza volante nel frattempo va questa bambina va dal padre che è un fabbricante di spade che prepara le armi poi le infagotte gliele dà perché sono arrivati dei non si sa neanche se sono imperiali comunque sono arrivati villain di turno con una nave avvisati del fatto che per l'appunto c'è qualcuno lì che sta fabbricando le spade laser e la cosa bella è che la bambina prima di essere messa in salva il padre che viene catturato prova questa spada laser che ha la lama semi trasparente verdastra e lei dice io purtroppo non ho molta forza che scorra in me chissà di che colore diventerà questa spada quando verrà impugnata dai jedi ecco di solito noi siamo abituati all'idea che il cristallo kyber dà il colore alla spada qua invece sembra che se tu non hai una particolare affinita con la forza neanche la lama riesce ad avere un colore voi direte ma questo non è molto nel canone di star wars in realtà siamo in un periodo tale che noi non lo sappiamo magari è un momento in cui il col veramente la questione forza spada laser è cambiata e il colore della spada deriva direttamente da quello che c'è dentro di te a livello di percezione della forza serve in realtà è funzionale per il colpo di scena perché la bambina poi a un certo punto prenderà la spada che diventerà verde brillante perché lei è sensibile alla forza ma non lo aveva mai scoperto quindi il padre viene accatturato lei va sulla fortezza volante peraltro vedi questo droide anziano che cammina con le mani della schiena che fuma che beve il tè che però è come se fumasse la pipa è una cosa carinissima anche questa quando arriva lì dà le spade laser ai vari Jedi e io ho detto adesso vedi che quando le straggono sono rosse tranne quella di uno che è veramente un Jedi che erano su tutti i Jedi erano Jedi senza maestro questa era l'idea c'è questo droide che è lì con loro che in realtà è il barone Juno dentro una corazza che si finge un droide perché ha sospettato che probabilmente alcuni loro fossero dei Sith quindi quando loro tirano fuori le spade le rame diventano rosse non dovrebbe essere così in teoria però ci sta perché era tutto finalizzato al colpo di scena anche qui animazioni carine anche se credo sia tutto in side shading da quello che vedo forse un utilizzo della computer grafica più ampio di quello che avrei voluto io preferivo dei corti proprio in animazione tradizionale a vederlo sembra in 2D ma a me sembra che ci sia il 6D in quel 3D che non sembra 3D però e le animazioni sono carine niente di particolare di particolarmente grandioso ma è molto bello il concept design e quando sconfiggono i vari Sith la ragazzina va con loro diventa il nono Jedi di questo ordine che sta rinascendo quando se ne vanno dalla fortezza vediamo che la fortezza ha la forma oblunga con il deposito di cristalli kyber che genera un fascio di luce e sembra una spada laser gigante che orbita intorno a questo pianeta un corto secondo me emozionante proprio per la storia voleva narrarti qualcosa in cui ci fosse il colpo di scena in cui si vedessero effettivamente dei plot twist interessanti un corto non tra i migliori ma comunque godibile mi è piaciuto l'ho trovato carino mi è piaciuto il fatto che la ragazzina scoprisse di essere una Jedi con la lama che diventa verde all'improvviso è bello è un corto comunque che si lascia guardare molto molto volentieri poi abbiamo il sesto episodio che è uno dei più carini è T0B1 T0B1 che se lo guardate in lingua giapponese ha la doppiatrice di Goku a doppiare T0B1 che poi sarebbe Tobi e è un omaggio ad Astro Boy lo studio che l'ha realizzato è per l'appunto dicevo Saiyansaru che ha una certa dimestichezza se non sbaglio si è occupata anche di uno dei film di Yo-Kai Watch Saiyansaru ha creato un corto con uno stile bellissimo tutto fatto a colori pastello ok molto cartunesco e un misto perfetto tra anime e animazione occidentale ok quindi con i colori leggeri tutto questo bianco con dei colori appena accennati a pastello sembra proprio disegnato a mano e è un omaggio a Astro Boy è un omaggio a Astro Boy c'è questo professore scienziato che vuole creare la vita su questo pianeta vuole salvare i pianeti deserti e desolati e ha questo droide che è un un droide però molto molto umano non è il solito droide ha facoltà di pensare da solo non te lo dicono ma probabilmente è il figlio la cui coscienza lui ha messo dentro un droide è proprio Astro Boy anche il design di T-0B1 anzi T-0B1 è proprio è proprio quello è molto simile a quello di Astro Boy solo azzurrino con questi colori qui e lui parla degli Jedi della forza dicendo se vuoi poi costruiti una spada laser trovando un cristallo kyber lui cerca l'apertudo questo cristallo kyber fino a che non arrivano non arriva un Sith che vuole distruggere che vuole distruggere per l'appunto i Jedi perché il T-0B1 sta giocando su quest'astronave e dice no tutti i Jedi tutti i Jedi ma stava giocando ma il suo messaggio viene captato da questa nave Jedi e da questa nave Sith scusate dove arriva arriva questo Sith e si scopre e si scopre che il vecchio professore è in realtà uno Jedi ritirato che viene ucciso e neanche si difende era un Jedi inerme e quando T-0B1 sente di questa cosa a un certo punto vedi che il cristallo kyber che cercava era dentro di lui e lo mette nell'alloggiamento della spada laser che gli ha preparato il suo professore e con l'aiuto anche dei droidi suoi fratelli diciamo che aveva costruito il professore riesce a distruggere questo questo Sith e lui ha questa quando sta quasi per essere sconfitto poi si riprende ma prima ha una visione con il professore che dice puoi vincere questo scontro Tobi perché T-0B1 è semplicemente il nome Tobi con le lette con i numeri al posto di alcune lettere quindi non te lo dice chiaramente ma è proprio una situazione all'astro boy questo è un corto estremamente sperimentale sia da un punto di vista secondo me delle animazioni che sono veramente particolari non sono le solite animazioni che ti aspetti da un anime ma anche insomma di altre perché il personaggio il principale è T-0B1 alla voce della doppiatrice di Goku che è un ottantenne con una voce fantastica se guardate in giapponese dovete assolutamente vederlo e sinceramente io sono rimasto molto colpito è gioioso carino anche se si parla di morte però il professore muore ma T-0B1 ha creato la vita e rende il pianeta rigoglioso portando avanti il sogno del professore muovendosi poi di pianeta in pianeta per ripopolare quei pianeti che sono stati devastati dal male questa cosa è veramente carina e si conclude con T-0B1 Tobi che con la sua navetta si perde per le stelle a tutta velocità diventa un puntino che si unisce alle stelle e questa è una cosa molto carina tra l'altro una cosa che ho notato sembra che si sia messi d'accordo in quasi ogni corto viene detta la frase ho un brutto presentimento che è una citazione proprio al primo film quello che mi chiedo è ma si sono messi d'accordo oppure ognuno ha pensato di mettere la stessa citazione questa cosa mi ha fatto molto ridere però ci sta è simpatica quindi bellissimo anche questo corto poi abbiamo The Elder che è il secondo corto dello studio Trigger vediamo questi due insomma Maestro e Padawan che sembrano molto Qui-Gon Jinn e Obi-Wan il ragazzo è pettinato con Obi-Wan con la treccina e arrivano su questo pianeta un pianeta quasi disabitato il pianeta Habbo perché stanno insomma stanno cercando qualcosa nel loro ruolo esterno e sentono un disturbo nella forza trovano questo anziano si chiama The Elder l'anziano l'episodio che ha queste due spade laser che sembrano due pugnali ok due pugnali della tradizione giapponese e la cosa interessante è che costui dice il ragazzo chiede sei un Sith e lui dice no io conoscevo i Sith però agli occhi la sclera nera e le pupille e le iridi gialle quindi probabilmente era un Sith che poi però non è più un Sith riesce quasi a uccidere il ragazzo ma viene poi sconfitto e ucciso dal maestro che con il suo soccorso il ragazzo non muore per fortuna e parlando col suo maestro lui dice sappi che non l'ho ucciso io l'ha ucciso l'inesorabile trascorre del tempo perché se fosse stato più giovane probabilmente non avrei potuto sconfiggere perché era un gran maestro Sith quasi sicuramente devi imparare questo che per quanto si possa diventare forti prima o poi finisce io adesso sono meno forte di prima tu diventerai più forte anche di me e a tua volta diventerai meno forte dell'allievo che sceglierai del padoan che sceglierai di addestrare quindi insomma è un bellissimo corto con l'approfondimento del rapporto tra un maestro e il suo padoan che hanno un rapporto molto risteso il padoan è spregiudicato fa battute mentre invece il maestro è un sitcom un Jedi un Jedi consumato un Jedi calmo cauto sono proprio Qui-Gon e Obi-Wan fatti e finiti ma sono altri personaggi questa cosa mi è piaciuta un bello omaggio molto meno esagerato rispetto al corto i gemelli dello studio Trigger con delle animazioni secondo me molto diverse e anche i disegni quello era proprio anime puro questo invece ha dei disegni più come posso dire più ragionati più tendenti al realismo c'è molto più spazio per la natura ad esempio in quello dei gemelli non capivo come questi combattessero nello spazio senza casco poi arriva il droid a soccorrere la gemella e ha il casco però magari essendo dei Sith riuscivano a respirare nello spazio grazie che cazzo ne so al lato oscuro però questa cosa mi aveva fatto ridere era tutto esagerato qua invece abbiamo tempi più lunghi disegni molto più realistici e meno anime meno cartuneschi un rapporto di spiritualità maggiore una profondità incredibile l'idea del vecchio Sith a cui non interessa niente di morire che cerca di campare misurandosi con gli esseri più forti che riesce a trovare in giro insomma è un corto dello stesso studio ma completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto da parte dello stesso studio nel terzo episodio e anche questa la bellezza ti mostra anche la varietà che hanno alcuni studi lo studio Trigger ti fa kill a kill ma ti fa anche promare e ti fa i gemelli ma ti fa anche di Helder quindi capite che è incredibile vedere che lo stesso studio riesca a fare due opere così diverse nello stesso contesto di una stagione di corti antologici niente da dire veramente bello mi è piaciuto molto non ha un finale tragico ma ti lascia un po' la mano in bocca ti viene voglia di dire wow ma chi era questo in realtà nella maggior parte di questi episodi si ha la sensazione di voler sapere come continuerà la storia e io spero che non ce lo dicano è lo stesso discorso che faccio a un what if non voglio sapere in nessun modo come vanno avanti quelle storie è bello che rimangano così degli sprazzi di cui non sapremo la continuazione ma è bello quello anche questo un gran corto poi abbiamo Lope Ocho che era uno di quella della Gheno Studio uno di quelli che venivano più attesi dove c'era uno dei protagonisti Lope che è per l'appunto questa coniglietta devo dire che è una cosa molto alla Final Fantasy anche qui ti sviscera un contesto mai visto c'è l'impero però c'è questo clan comandato da quest'uomo retto e giusto questa famiglia che ha una figlia Ocho ma anche una figlia adottiva Lope questa coniglietta per l'appunto che ha trovato in questo mercato dopo che era scappata perché era un'operaia schiava dell'impero e il padre vorrebbe contrastare l'impero che sta distruggendo il pianeta da anni ma la figlia biologica Ocho non vuole e si unisce all'impero allora il padre va a cercare di far ragione alla figlia ma lascia all'op l'antica spada laser di famiglia che fu lasciata a un suo antenato da uno Jedi l'op vede in lontananza che ci sono delle esplosioni va a vedere cosa sta succedendo e vede la sorella Ocho che si è tagliata i capelli e si è truccata col suo stesso sangue per avere un aspetto più minaccioso che ormai deve stare con l'impero perché ha abbracciato un po' il lato scuro se vogliamo anche se in realtà non è una Jedi né una Sith semplicemente si è lasciata corrompere dal potere dell'impero e combatte contro la sorella la sorella la coniglietta la sorella adottiva di cui rinnega perché Ocho dice tu non sei veramente mia sorella e lei dice non mi interessa cosa pensi noi siamo sorelle il nostro è un legame più profondo del sangue infatti lei ha ereditato la spada laser nonostante non sia dello stesso sangue dell'uomo che gli era data ma lui la considera la sua figlia e quindi è degna di averla e quindi con quella spada laser sconfigge la sorella la quale scappa su una nave imperiale e il corto finisce così però è un bel corto perché ti esplora un rapporto familiare facendoti capire che il sangue non è l'unica cosa che può farti sentire parente di qualcuno il legame spirituale è molto maggiore non solo c'è anche l'idea del come posso dire c'è anche l'idea della della corruzione la sorella che sembrava tanto brava e onesta a un certo punto cambia anche addirittura l'aspetto per unirsi all'impero perché lei è convinta che l'impero possa portare pace nella galassia possa portare equilibrio dice non capisci non possiamo porci all'impero e diventa una guerriera al servizio dell'impero mentre invece l'hop che è una ragazza molto diversa più timida e spaventata tira fuori un certo coraggio diventando di fatto una sorta di jedi senza maestro quindi magari verrà poi addestrata da un qualche jedi mi piace molto questa cosa però notate i cristalli kyber e spade laser sono al centro di quasi tutti gli episodi e questa cosa l'ho adorata quindi anche questo episodio per quanto sia un episodio con animazioni molto più tradizionali è un anime duro e puro però ha in sé la quintessenza di quello che è star wars ed è quello che ha comune tutti questi episodi fino ad arrivare all'ultimo a kakiri che forse il più secondo me tragico anche qui siamo in un contesto simile al giappone feudale c'è questa principessa che ha visto suo padre essere ucciso dalla zia che è un maestro sit e si incammina con questo cavaliere jedi errante che gli aveva aiutati anni prima probabilmente anche innamorato di lei e i suoi due servitori sulle tracce di questa sit e quando la trovano lui è tormentato da delle visioni in cui ammazza qualcuno ma non capisce chi sia e a un certo punto quando trova la sit lei gli manda contro delle persone con delle maschere lui le uccide tutte uccide anche inadvertitamente la principessa che era stata rapita e travestita come uno dei guerrieri al soldo di questa sit e allora lui si rende conto che la visione che aveva era lui che la uccideva è esattamente quello che accade ad Anakin né più né meno è una rivisitazione di quello così come nel corto di Elder c'era una rivisitazione del rapporto Qui-Gon e Obi-Wan ma senza che fossero loro i personaggi in questione e succede esattamente questo succede che la Sid dice se vuoi possiamo insieme possiamo fare qualcosa la fanno rivivere e lei dice che cosa hai fatto e lui dice ho fatto quello che devo fare e se ne va con lei dice si maestro e se ne va con lei quindi lui per salvare la donna che amava che lui stesso aveva ucciso con l'inganno la fa rivivere e vuota la sua vita al lato scuro è la storia di Anakin con un epilogo che non conosceremo probabilmente mai poi bellissimo questo perché è giocato tutto sul verso la fine sui toni del rosso c'è il tentativo di redenzione fallito perché alla fine diventa un malvagio del Jedi che è un po' il samurai rinnegato se vogliamo non il ronning del primo episodio ma una cosa più più tipica della tradizione anche teatrale kabuki giapponese insomma questa cosa l'ho apprezzata un corto veramente interessante con animazioni particolari perché nelle scene di combattimento è come se andasse tutto quasi a scatti ma è fatto apposta quindi insomma questo Star Wars Visions per quanto mi riguarda è un'opera veramente veramente bella che sperimenta osa e innova anche perché questa secondo me è un'innovazione nell'ambito audiovisivo di Star Wars perché ti fa capire quanto si possa espandere l'universo non sarebbe male se a questo tipo di operazione si ispirassero per dei nuovi film mi devi fare dei nuovi film fai dei film che sono slegati completamente di Skywalker fammi qualcosa di completamente diverso ma non come hai fatto con Roguano solo qualcosa magari ambientato anche in un'altra galassia perché no tanto Star Wars alla fine concerne uno spirito nel mettere in scena certe cose cioè Star Wars può essere espanso lo stesso concetto che i fan hanno di Star Wars e questo questa serie questa prima stagione di Star Wars Visions a cui spero ne seguiranno altre lo dimostra e per me è veramente veramente incredibile davvero date una possibilità a questa serie perché a mio volo la sua parere è davvero una delle cose più belle che abbia visto su Star Wars negli ultimi anni io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente per aver sentito fin qui ho parlato anche troppo questo video durerà una cinquantina di minuti almeno quindi a lei quindi fatemi sapere comunque tutto qui sotto cosa ne pensate voi Star Wars Visions vi è piaciuto qual è il corto che vi è piaciuto di più e perché qual è quello che vi è piaciuto di meno e perché discutiamone perché secondo me ci sarà tanto di che parlarne vi do un bacione vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo movie vlog ciao a tutti